Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo un'altra maglia retro, questa ovviamente è la prima maglia del Real Madrid per la stagione 2004-2005, di un altro grandissimo campione di Zinedine Zidane. Grazie per la visione! Tra le maglie che ho visto, retro è una delle più belle. Il costo lo vedete qui sopra? Non aggiungo altro, fate voi le vostre valutazioni, ma per questa maglia è veramente un affare. Vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, mettete un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Premette questo benedetto pulsante. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.